Spadellata di cavolo fappuccio, carciofi e patate. Buonissima, dovete provarla. Mettete uno spicchio di aglio schiacciato con un filo di olio in una padella capiente. Dopo che avete fatto insaporire, togliete l'aglio. Aggiungete le patate tagliate a tocchetti e i carciofi tagliati. E vissate cuotere circa 7 minuti in padella a fiamma vivace. Biscolate spesso le verdure. Passato circa 7 minuti aggiungete acqua calda o brodo vegetale. Abbassate un po' la fiamma, coprite e lasciate cuocere altri 7 minuti circa. Aromatizzate con il timo fresco. A questo punto aggiungete il cavolo fappuccio. Dopo che avete mescolato, aggiungete l'acqua calda o brodo vegetale. Coprite e lasciate cuocere. A fine cottura salate e pepate. 15 minuti di cottura a fiamma vivace. Le verdure sono pronte.